Una svolta nella lotta all'epidemia di covid non è prevedibile prima della primavera del 2022, lo afferma il virologo Anthony Fauci, principale consigliere medico dell'amministrazione Biden. Sono circa 90 milioni gli americani che non si sono vaccinati e lo faranno entro il prossimo inverno. Fauci ha anche raccomandato che le persone che hanno avuto il covid sono guarite e si vaccino a loro volta. La variante Delta ha una capacità straordinaria di trasmissione, continua il virologo, non è possibile. Stabilire una percentuale di persone vaccinate è sufficiente a evitare una ripresa dei contagi. Occorre convincere scettici e contrari a vaccinarsi. Grazie a tutti.